Per destra 4 apre 50, 4 apre in fondo al 50, occhio sinistra 3, corda veloce e tieni, 3 corda veloce e occhio tieni, 20 ed occhio destra 3 allarga scivola, in destra 2 meno meno tieni scivola, ricorda qual è? Per sinistra 2, per destra 5 tutto pieno via 80 ed in fondo sinistra 4 corda apre 50, 4 corda apre 50, occhio sinistra destra 5, in all rail in fondo occhio sinistra 2, 2 Pompierla